No, no, senza nome, non c'è problema. Allora, cerchiamo di sintetizzare il valore di questo mercato, il significato e il valore di questo mercato. Il valore? Va bene, ci troviamo. Il mercato della terra è uno dei più importanti progetti di New Food perché contiene la filosofia del nostro movimento. Al nostro mercato, il mercato di tutto il mondo, vengono ospitati i contadini che vengono selezionati, giudici. La loro modalità di coltivazione è una modalità del tutto naziale, rispettosa della terra, rispettosa degli animali e rispettosa ovviamente degli uomini. Allora diamo qua una vetrina con la quale possano farsi conoscere prima di tutto, raccontare le loro storie e far capire a chi viene, agli amici dei cirurgici, a far capire quanto sia importante dare una svolta a tavola della nostra alimentazione, perché a partire dall'alimentazione... Perfetto, la nostra alimentazione, va bene, va bene.